Matteo Romanenghi alla fine di questa partita ha un joie generoso, però Lugano mi vuole essere qualcosa in più. Sì, lo sapevamo che è chiaro che noi partiamo con la consapevolezza che le squadre che incontriamo saranno magari tecnicamente o tatticamente migliori di noi, ma non è abbastanza, diciamo che anche oggi abbiamo probabilmente regalato i primi tre goli e sarebbe stato iniziare il terzo tempo 0-0, è un'altra cosa e invece che ogni volta dobbiamo rincorrere, 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 è difficile, arriverà, penso che dobbiamo continuare a lavorare e appunto non arrenderci. Come ti trovi in questo ruolo un po' particolare? C'è un ruolo importante, giochi in prima linea e anche se giochi con una squadra piccola dimostra che sul tuo valore c'è. No, è chiaro che è quello che cercavo, quello che avevo bisogno in questo momento, era quello che appunto volevo fare e chiaro le responsabilità sono di più, però cerco sempre di dare il massimo, sappiamo che comunque abbiamo tanto da lavorare, io comunque ho tanto da lavorare e al momento sembra che le cose non girano dalla nostra parte e dobbiamo lavorare per cambiare. E l'ultima cosa, giocare a Joao, non in una realtà come qui a Lugano, ti fa trovare a tuo agio? Ma è più, non dico che è più o meno uguale, però nel senso è comunque è lo stesso sport, nel senso che mi trovo bene, mi trovo bene qua, mi trovo bene a Joao, a Joao gioco di più, ma appunto penso che come adesso non è abbastanza e dobbiamo cercare di migliorare. Tornate con l'arena? Ma è molto speciale, nel senso che comunque ho qua praticamente tutti i miei amici, è comunque sempre una cosa speciale. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao.